ragazzi bentornati a tutti nel canale come accennato nel video precedente relativo a PES 2017 oggi andremo a spacchettare otto volte avete visto che abbiamo 100.000 gp terremo infatti 20.000 per i contratti per il rinnovo dei contratti andremo a spacchettare gli agenti speciali della UEFA Champions League mi pare che siano disponibili fino al 26 o 29 non mi ricordo adesso ma andiamo col primo primo pallone pallone d'oro ed iniziamo bene andiamo a rinforzare la difesa che avevamo bisogno aggiunto i miei primi club e andiamo col secondo paghiamo con gp confermiamo e attenzione secondo pallone secondo pallone d'oro vogliamo il pallone nero però due palloni d'oro su due spacchettati direi che va benissimo il terzino destro ce l'avevamo ma fa niente poi aggiungiamo i miei primi club andiamo col terzo confermiamo pallone argentato vabbè abbiamo già speso 30.000 gp questo lo convertiamo terzino sinistro non ci interessa lo convertiamo in allenatore e andiamo con il quarto quarto pallone d'oro tre d'oro su quattro portiere vabbè chico casiglia vabbè lo possiamo tenere anche se abbiamo già casiglias e keylor navas andiamo al quinto sì il quinto vai dacci un bel nero nada buco nell'acqua argentato un altro portiere De Santis vabbè convertiamo in allenatore convertiamo in allenatore andiamo con il sesto ci stiamo avvicinando nella zona calda ce ne mancano appunto tre 6, 7, 8 6, 80.000 gp questo è il terzo ultimo era lì vicino cazzo vabbè un altro argento convertiamo De Jong in allenatore però cazzo un pallone nero ci starebbe 80.000 gp andiamo col settimo è penultimo vediamo un po' niente argentato speriamo almeno l'ultimo convertiamo anche Quaresma in allenatore oppure no lo teniamo teniamo prendiamo i membri my club andiamo con l'ultimo crociamo le dita confermiamo ragazzi speriamo ma porca puttana niente raga 80.000 gp neanche un nero 3 d'oro mi pare niente data male ragazzi io vi ricordo di iscrivervi al canale per i nuovi lasciare un mi piace seguirmi su facebook e su twitter e ci vediamo al prossimo video sperando di prendere qualche palla nera e e magari rifarci da questo spacchettamento andato di merda proprio ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao raga